Ciao, eh. Ciao, ciao. Come va? Come è andata il lavoro? Uai, una taragetta. Bene, bene. Oh, io stasera non ci sono che vado a giocare a padel e quindi vado a farmi una doccetta. Comunque non dovrei far tardi, eh. Ma non si fa dopo la doccia? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.